musica 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 come fate a mettere le frecce? eh perchè ho la labi mod labi mod mod permette di fare le frecce anche dei karat tipo questo guarda si che figata c'è troppo tag life aaa attenta a fare il ponte dall' alto iabiche aaa ok va bene è una cosa rapida e indolore però non ho pensato tanto ormai abbiamo perso adesso in effetti è vero quando arrivano ahhh eccoli che volevano arrivare oh jesus stanno arrivando si fa male fa male molto male è caduto? no bene ma te dove sei? ah è lì mi attacchi un pochino più lontano no? vabbè ha trigger head no 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 ho buttato giù non abbiamo ancora il trap dai vai 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 è caduto yeah no entro arriva un'acqua arrivo 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 devi cadere di sotto perché non cade? perché non cade? davo ma c'è un piccolo problema da 20 blocchi grande no è caduto cappro la cosa che bella soddisfazione quando cadono aspetta arrivo l'acqua bene come è attento tranquillo 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 no avevo sette smeraldi no no avevo sette smeraldi erano i miei i origi sembrano un team aggurrito ahah avevo già beccato uno bene ora ci rimane soltanto il blu è il tuo iron golem bravo 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 dove sei gab? mi sto facendo il giro dell'isola non lo trovo ah ecco gg bella partita non lo trovo non lo trovo